È il frontman del gruppo Emedusa e dal 2003 ha instaurato una collaborazione con Caparezza, con il quale partecipa ai suoi tour come seconda voce. Nel 2007 forma i Niagara con Davide Tomate e Gabriele Ottino dei N.A., M., B., progetto tendente all'elettronica più sperimentale, da cui si allontana alla fine del 2012 per mancanza di tempo da dedicare al gruppo. Nel marzo 2012 pubblica il suo primo album solista dove finisce il colore delle fotografie lasciate. Al sole, dal febbraio al giugno 2013 pubblica mensilmente un singolo e nel giugno 2013 pubblica L.P.O.E. Silvano contenente i cinque singoli pubblicati in precedenza. L'Armadio, Il Motivetto, Vale e Fra, Super Slot, Rockstar.